hola 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 e ancora hola io sono max del barrofonco benvenuti in un nuovo episodio del maxiccio di roccia nera la sfida dell'avventura d'accordo nella quale io tento di blastare il culo ai boss che mi trovo davanti con le sole forze del mio rosic considerato che l'altra volta abbiamo finito l'ala perché praticamente il secondo boss l'abbiamo distrutto in 30 secondi mentre il terzo ci ha richiesto un po più di impegno oggi facciamo le sfide di classe flagellazione di velastraz che ancora io non ho capito che cazzo sia però vediamo il potere passivo così io sono la vittoria bene ora quasi quasi tengo tutto sono leggendario che bello mi sono fatto il mazzo lo stesso mazzo di prima vedete sei qui per aiutarmi ad annientare i mortali di questo mondo tantissimo chi arriva? questo è ridicolo vabbè non muore nessuno quindi a posto distrugge tutti i servitori perché figurati vabbè adesso si è ma cristo santo lol questo qua è l'immortale sega tronchi ok bello l'ho messo come sfida di classe la stessa cosa che ho fatto io chi è? questo chi è? pirata capitano pelleverde aia va bene no eeeh tempo di terrestre ok 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 eh cazzo merda va bene lo stesso che razza di culo proprio adesso tipo va bene 4 scusate ma lo devo fare scusate ma lo devo fare nooo puttareva che dispiacere beh dottor boom ha umana però dovevo ancora vedere cosa guardi cosa guardi cosa guardi beh bello bello che sfida di classe ridicola draghetto oscuro boh direi che ci facciamo anche l'altra no? che almeno vediamo che cazzo ha in servo per noi questo gioco macchinazione contro ragnaros bello sarà la prima ala che finisco in 3 episodi perché ci si mette 30 secondi prende mano nera lui siamo la vera orta devo proteggere la natura madonna santa eeeh o che e e e e e facciamo così dai ok hai scelto di scalare la montagna sbagliata non ho niente adesso da mettere giù evoca una pantera 3 2 ma si no shammiamo dai che cazzo open the gates nooo speravo che avrebbe traddato vabbè bello shammare eeeh facciamo così no dai proviamo a controllare mi metto tipo esigente brutta eeeh più uno più uno dei tuoi servitori va bene ma si si attacchiamo ottimo eeeh facciamo che questo qua diventa un 5-2 dai che è cattiva una volta andiamo di controllo che siamo forti un donut tutti i servitori un donut ma dai ecco questo è ridicolo concentratemi su quelli infame idioti eeeh allora io ho 6 di ma cioè fai fare tipo così così e così adesso lui evocherà qualcosa di immenso però in linea teorica dove posso dare più cinque più cinque più cinque ah no due orchi uno uno con provocazione ok ok più cinque più cinque provocazione a questo ottimo così così lo faccio così e basta minchia minchia che forte eh va bene poco pesante eh e anche questo questo costa 3 e questo costa 0 e via che grossa questa cazzo va bene che forte super tempo sta cosa più danni cazzo non penso di aver messato l'ital perché c'è ok ed è vinta che questa è fantastico quante emozioni questa ala eh signori quante emozioni bello questo qua tra l'altro con con Keltuzada sti mazzi qua secondo me saranno straforti oh signori io ho già finito questa ala qua perché effettivamente non ci si mette molto mi sono anche discretamente divertito se devo dirvi la verità vi invito a lasciare un mi piace a questo video se effettivamente vi è piaciuto a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto eh commentate qua sotto insomma insultando un pochino le mamme di tutti quanti perché è sempre bello tipo gettare un po' di benzina sul fuoco perché se la gente è tranquilla e serena non va bene bisogna litigare tutti quanti per forza no perché qua siamo in Italia cazzo considerato che null'altro è rimasto da dire da Max dei Berrofronzo a la prossima settimana e adios a todos che non è non è non è Grazie.